Avvertenze importanti. Specifichiamo che questo video non rappresenta una consulenza di investimento né una raccomandazione di investimento, ma esclusivamente una pubblicità. Tutte le informazioni sugli strumenti finanziari trattati, compresi i rischi, sono descritte nella documentazione legale rintracciabile gratuitamente nel sito dell'emittente certificati.fontable.com. Raccomandiamo di leggere attentamente tale documentazione prima di effettuare qualsiasi decisione di investimento. In questo video si fa riferimento a performance passate o future degli strumenti finanziari. Ovviamente le performance passate, così come le previsioni, non sono un indicatore affidabile delle future. Per qualsiasi ulteriore informazione legale, consultare il sito certificati.fontable.com. Stamane avevo individuato un ottimo supporto per il DAX, ma purtroppo non è già partito, quindi in ogni caso è un ottimo livello che comunque voglio lasciare. Il supporto era aria 15.078, questo era un eccellente livello di liquidità che si manteneva praticamente da marzo, ed era un livello su cui mi aspettavo un rimbalzo, anche forte, per cui lo vado a confermare. Ho messo uno stop non troppo grande, aria 15.000, anche perché al di sotto di questo livello mi aspetterei un'ultima pressione ribassista con target 14.775, 14.920, perché questo è il supporto annuale, uno dei più importanti, per cui mi aspetto che il DAX possa continuare a salire. Il target è aria 15.216, in realtà il target esatto sarebbe 15.228, ma di solito quando abbiamo queste zone molto forti magari ci si avvicina a poi torner indietro. quindi il trade fortunatamente è partito appena ho scritto, quindi l'ho scritto nel 9.10, 9.15 se ricordo, non ricordo bene, quindi non cambio nulla, è un multi day, quindi vi lascio questo valore come punto interessante da tenere in considerazione per un long e sinceramente se su questo livello cominciano ad accumulare mi aspetto che il DAX salga molto molto di più nei prossimi giorni. In ogni caso non è ancora arrivato il bottom e spero che il DAX comunque magari non subito, ma fra una o due settimane possa testare questi 14.700 e cominciare da lì a provare ad accumulare per un eventuale rally di finale. Grazie. 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 Grazie.